Ciao ragazzi al nuovo video di La Liga di Diversità Ora giochiamo prima a Minecraft La nuova versione di Minecraft Aspettate Ok ci sono Ora ci giochiamo uno nuovo Ora aspettate che si calma Ora giochiamo una che ho già avuto a lavorare con mio fratello E io spero che riceverò di più iscritti Ora ecco Sì sono quasi morto Ora sto a fare che prenda di più legno E questa cosa grande è la mia casa Questa è Ora mi serve Ma è impossibile Questa è la mia casa Questa è la mia casa Aspettate Questa è la mia casa 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 fate tipo qua che non volete sapere che avete giocato con il vostro genitore fate così, andate poi a cangela toccate quando poi ve lo fa allora me o di r allora ci sono tanti giochi di le remissi e poi superarmi voglio quello si quello bello che voleva non giocare con voi e perchè pensate che non so scrivere per favore non mi sa volutare la trovo aspetta che vado a scuola allora adottami no perchè c'era un bel gioco voglio giocare ecco la sopravvivenza all'asia non so come si dice ok poi qualche giorno farò la life qualche giorno non so guardare una cosa il tempo è un po' troppo alto e non c'è non so ah 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 e... ...mi piacettaciche e... ...si a ... ... ... Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 E' un po' che re... Ma no, io non so quello che vedo che... ... che... ... che... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un youtuber si è comprato questo che costa 999 euro. Dai, che vuole? Io, 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 io. Nooo. Noi, io, 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 io... Noi, io, 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 io... Noi, io, 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 io... No, 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 no... No Mamma mia che bravissimo Voleo rivivere Mi 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 Oh my god 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 Okay Oh my god 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 Oh my god